Ma una alla volta in questo piano... Dell'ultima domanda magari prendete quello della sequenza di prima. Mi chiamo Lorenzo. Mi chiamo Greta. Giorgio Gambino. Mi chiamo Silvia. Arrivo dalla Ciampino, vicino a Roma. Vengo dalla Calabria, Cosenza. Studio Ingegneria Fisica al Politecnico di Milano. Corporate Communication alla Iulma. Mi aspetto che sia un posto dove poter studiare in tranquillità e stare insieme ad altri studenti come me. Mi aspetto di incontrare persone con cui poter condividere esperienze, opinioni e quindi di trovare un ambiente stimolante per la mia crescita personale e culturale. Le mie aspettative per questa esperienza in collegio sono innanzitutto conoscere tante persone interessanti per diciamo arricchirmi anche un po' da punti di vista che non ho coltivato in gli altri quattro anni di università. Mi troverò a contatto con 200 studenti e mi è stato di poter prendere il meglio di ognuno di loro.